Bentornati nuovamente all'ascolto di un nuovo podcast, oggi ci fa compagnia un attore hollywoodiano di tutto rispetto perché ha infranto tantissimi record perché i suoi film hanno incassato oltre 2,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti e nel Canada con una media di 74 milioni a film. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, non il premio Oscar tra cui comunque un premio Emmy, stiamo parlando di Benjamin Stiller, a tutti, per tutti conosciuto come Ben Stiller perché è un attore new yorkese che nasce il 30 novembre 1965, non solo attore, comico, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e anche doppiatore, diciamo che non si è mai fatto mancare l'unla, fa parte dei cosiddetti fret pack che sono, oltre a Ben Stiller, ci sono Blackjack, Will Ferrell, Vincent Vaux, Steve Carell e i fratelli Owen e Luke Wilson fa parte del gruppo non ufficiale di comici statunitensi che viene chiamato per l'appunto frattac, frattac questi hanno infatti lavorato insieme nella loro collettività o in sottogruppi più ristretti a svariate opere cinematografiche tutte caratterizzate da uno sfondo comico o demenziale, direi per lo più demenziale, in veste di attori principali e spesso anche in ruoli secondari o kamei, diciamo che fanno parte di una crew, una vera e propria crew di attori generalmente è riconosciuto Ben Stiller proprio come il leader dei fret pack dati i suoi numerosi kamei e per le numerose collaborazioni con gli altri membri del gruppo in film diretti comunque molto spesso da lui, dove la regia per l'appunto porta la firma di Ben Stiller dei 35 film, perché sono 35, riconosciuti come film dei fret pack Stiller è coinvolto in 20, quindi una grande percentuale di questi è apparso accanto ad Owen Wilson, l'attore con cui ha collaborato di più ben 12 volte Stiller non riconosce però il termine fret pack che ha definito una completa fabbricazione diciamo così non si fa mancare comunque la polemica, non possiamo definirla una vera e propria crew attoriale per quanto il concerne la vita privata nel 1999 ha conosciuto l'attrice Christine Taylor e il 13 maggio 2000 sono volate a nozze, la coppia ha avuto due figli e a fine maggio del 2017 invece hanno annunciato il divorzio molti non sanno che Ben Stiller oltre ad avere natali illustri perché un figlio d'arte e anche i genitori erano attori ed è stato proprio grazie a loro che ha cominciato la carriera cinematografica è affetto anche da bipolarismo e questa cosa diciamo così non trapela quasi mai attraverso le sue pellicole ma neanche una vita privata negativa perché non ci sono mai arrivate notizie di negatività soprattutto per quanto riguarda la carriera, scusatemi, la vita privata di Ben Stiller un attore che è amato da moltissimi a livello internazionale perché le sue commedie sono state esportate in tutto il mondo dicevamo poco fa degli incassi sono veramente numeri da record per tutto il panorama statunitense e non solo statunitense e canadese diciamo che tra le commedie che vengono prodotte negli Stati Uniti io preferisco di gran lunga quelle dei Fred Peck, quelle di Ben Stiller perché non si avvicinano anche pur avendo uno stile demenziale come può essere Zoolander, Zoolander 1 e Zoolander 2 io adoro Zoolander tra l'altro per la mise con cui gli attori interpretano i personaggi seppur in maniera come dicevamo demenziale possiamo comunque dire che sono molto ma molto meglio questo stile comunque demenziale rispetto alle commedie di Adam Sandler non so se analizzerò mai Adam Sandler perché non lo apprezzo in maniera chiara, netta c'è poco da fare, questi sono i gusti e magari a molti piace molto più lo stile di Adam Sandler io non ci riesco, mettiamola così allora mi piace citare qualche film soprattutto quelli che li ho visti sicuramente il primo film di cui mi ricordo con Ben Stiller è Tutti pazzi per Mary con la regia, una doppia regia di Peter Bobby Farrelly ed è del 1998 ma l'esordio cinematografico Ben Stiller lo farà in su e giù per i Caraibi dove non avrà un ruolo principale comunque nel 1987 e già nel 1987 data di esordio cinematografico di Ben Stiller lo possiamo trovare anche in un film di Steven Spielberg che è L'impero del sole ci sono tantissime commedie in cui possiamo trovare Ben Stiller possiamo dire amici e vicini, Hard Night, Mystery Man, Black and White, Tentazioni d'amore e poi secondo me uno dei capolavori sicuramente che poi è diventato una vera e propria saga dove abbiamo anche un cast con Dustin Hoffman e Robert De Niro è Ti presento i miei che esordisce come primo appuntamento della saga negli anni 2000 nell'anno successivo poi vediamo per l'appunto Zoolander dove l'interpretazione è demenzialissima ma allo stesso tempo iconica perché lui e Owen Wilson rimangono nella storia di queste interpretazioni parleremo tra tanti anni sicuramente di Zoolander perché è un modo demenziale di interpretare il ruolo e di poterlo trasportare anche a livello internazionale perché non sempre qui le parole hanno una importanza fondamentale ma è per lo più il dinamismo dei personaggi in cui vengono interpretati poi lo troviamo in Starsky e Hatch di Todd Phillips che sicuramente ricorderete per le regie di Una Notte da Leoni del 2004 e poi Palle al Balzo, questo lo hanno trasmesso Dodget Ball, lo hanno trasmesso diverse volte nel Mediaset in Italia e poi arriva nel 2004 il secondo capitolo della saga che è Mi presenti i tuoi anche qui l'interpretazione è demenzialissima addirittura sono state fatte delle parodie non ricordo se erano degli scary movie ma diciamo già fare la parodia di una cosa che è già di per sé demenziale non è che possa funzionare molto poi Una Notte al Museo è sicuramente la saga che amplifica la portata di Ben Stiller Una Notte al Museo dove c'è anche Robin Williams è stato il primo podcast che abbiamo affrontato un Robin Williams sicuramente alla fine della sua carriera c'è sempre Owen Wilson e c'è soprattutto un attore che molto spesso viene dimenticato ma che sarà un premio Oscar degli ultimi anni che è Rami Malek che interpreta il faraone un film da vedere in famiglia non è un film capolavoro ecco intendiamoci così ne parlavamo così quando parlavamo di Robin Williams però per le famiglie sicuramente consigliato successivamente uscirà anche il secondo capitolo di Una Notte al Museo nel 2009 cambiando la regia e poi ritorna un altro capitolo della saga invece nel 2010 che vi presento i nostri diciamo così la saga continua e c'è una parodia molto divertente in questa canzone quando diciamo De Niro si fa il montaggio video con le parole di De Niro io ho un gatto di nome sfigatto è molto simpatica e divertente demenziale sicuramente ma molto divertente allora per cose demenziali io vi consiglio un film se vi piace questo tipo di comunicità è un film uscito nel 2012 e si chiama Vicini del Terzo Tipo c'è Vince Vogue e ragazzi se voi pensate di sapere cos'è la demenzialità forse non avete ancora visto questo film praticamente ci sono c'è un'invasione aliena che parte da un piccolo paese Ben Stiller fa praticamente tutti i lavori all'interno il suo personaggio fa praticamente tutti i lavori possibili crea qualunque comitato praticamente abbandona mette da parte la moglie alla fine avrà ragione perché stavano arrivando gli alieni tutto qui? no ma guardatevi il film per capire perché ci sono questi alieni e qual è soprattutto il loro punto debole è una cosa che mi ha ammazzato da ridere Una Notte al Museo 3 che è anche l'ultimo film di Robin Williams è l'ultimo capitolo della saga è un film molto brutto devo ammettere il peggiore dei tre il più bello è il mio preferito è sicuramente il primo non è un gran film per tantissimi aspetti non trascina mai rimane una commedia la vera e propria Una Notte al Museo 3 il segreto del faraone nel 2016 con la regia di Ben Stiller torna invece Zoolander iconicamente insegue un po' quella che è stato fatto nel primo film e tendenzialmente rimane un omaggio a quello che era stato il capolavoro demenziale degli anni precedenti poi lo troveremo nel 2021 con un rientro che è Locked Down con la regia di Doug Liman del 2021 quindi attendiamo subito il ritorno di Ben Stiller e poi c'è I sogni segreti di Walter Mitty questo è un film sospeso non lo definirei neanche drammatico però è un bel film curioso ecco più che interessante è veramente curioso da vedere consiglio di vederlo per avere un'immagine diversa di Ben Stiller rispetto alla solita commedia la solita commedia demenziale in cui ci ha trasportato nel corso degli anni più o meno è questo Ben Stiller che è stato anche sceneggiatore di Zoolander 1 e di Zoolander 2 non solo ma anche di Elvis Tories nel 1989 e di Tropic Thunder nel 2008 ha doppiato Madagascar Madagascar 2 ha doppiato un personaggio in Madagascar Madagascar 2 Madagascar 3 adesso non so chi sia veramente il personaggio che ha doppiato è stato doppiatore anche di Megamind è doppiatore in B-Movie in A-Simpson ha doppiato soltanto un episodio e tra l'altro credo che interpretasse se stesso è stato produttore come dicevamo all'inizio anche di Escape at Dan Mora è una miniserie tv del 2018 e Alex Strangelove sempre del 2018 quindi la carriera da produttore si ferma essenzialmente nell'anno appena citato c'è veramente poco altro da dire oltre a quello che abbiamo detto e la vittoria delle Emmy Awards Ben Stiller ha segnato insieme a tutta la crew di cui fa parte di cui è leader anche se non si riconosce perfettamente in quell'ideale ma Ben Stiller ha segnato questo modo di recitare e lo ha fatto in maniera coinvolgente pressante sono dinamici i film di Ben Stiller sfido chiunque a vedere ti presenti i miei mi presenti i tuoi e via dicendo e non restare attaccato alla pellicola perché comunque quella demenzialità ha uno stile una sceneggiatura che è comunque sempre ricercata e ripeto Zoolander è sicuramente la massima esposizione di questo concetto Ben Stiller è un attore che deve essere apprezzato perché la commedia americana soprattutto di fine anni 90 primi anni 2000 e parliamone ancora perché 2012 2016 ci sono ancora le sue commedie in auge è sicuramente uno dei migliori commediografi attori comici del momento hollywoodiano che ci sono che ci sono che ci sono